Ciao a tutti gli amici di Android Blog. Oggi siamo con un dispositivo nuovo legato alla medicina, un misuratore di pressione wireless, bluetooth, che potete tranquillamente collegare al vostro smartphone o tablet. Tramite un'apposita app, l'iHealth, vi permetterà di eseguire una misurazione e terrà uno storico di quelle che sono state le vostre misurazioni per tenere una cronologia del vostro stato di salute. iHealth è distribuito in Italia da Gima ed è in vendita online a un prezzo di circa 100€. Procediamo quindi subito con l'unboxing della confezione, vediamo cosa troviamo al suo interno. Vi dico sin da subito che è un apparecchio veramente portatile e molto molto comodo. Questo misuratore è un misuratore da braccio, lo trovate anche in una variante da polso ancora più portatile, ancora più compatta. Allora questo è il misuratore in sé per sé, quindi è una fascia un po' come quelle che potete comunque trovare presso le farmacie, quelle più classiche che hanno anche il display. Questo si connette tramite bluetooth al cellulare, quindi sarà l'app sul cellulare a mostrarvi i risultati. Ma veniamo poi al resto della confezione, troviamo anche una pratica bustina per portarlo in giro, dove all'interno sono presenti la manualistica per imparare a utilizzarlo. Tra l'altro in questo caso è veramente importante leggersi le istruzioni per poterlo utilizzare in maniera corretta perché un uso scorretto potrebbe portare a una misurazione sbagliata. Ecco, quest'altro invece è il cavetto per la ricarica. Non troviamo altro, se non appunto questa pratica bustina che poi ci servirà, ci potrà tornare utile qualora lo volessimo portare in giro. Essendo in neoprene si adatta perfettamente alle dimensioni. Vabbè, non ve la chiudo, ma ecco, diciamo, è veramente comoda. Veniamo al dispositivo in sé per sé, per ora il resto lo mettiamo di lato. Abbiamo questo dispositivo, tra l'altro mi sembra anche abbastanza ben fatto. L'ho confrontato con un dispositivo acquistato in farmacia di quelli più classici ed ecco che, non so se lo notate, si è acceso. Lampeggia la spia del bluetooth, per sbaglio avrò pigiato il tasto start che troviamo qui in basso, start and stop. Tenendolo pigiato a lungo il dispositivo si spegne, ecco che si è spento, mentre pigiandolo una sola volta, per qualche secondo, riparte. Il dispositivo va subito in modalità bluetooth visibile e quindi appunto con il vostro smartphone potete collegarvi e adoperarlo. Vi faccio vedere subito, vi voglio far vedere l'applicazione. Allora, rimuoviamo il riflesso. L'applicazione si chiama iHealth, la trovate tranquillamente sul market, è gratuita, eccola qui. È un'applicazione molto semplice, si rifà molto a linee di iPhone. Ecco che forse così l'ha riuscita a vedere meglio. Infatti questo prodotto era stato inizialmente distribuito soltanto per iPhone, ma adesso è compatibile con Android. Una volta eseguito l'accesso con un apposito login oppure come utente guest, come ho fatto io, io in realtà ho fatto l'accesso come utente guest, ma vi consiglio di registrarvi così potete sincronizzare poi quelli che sono i vostri test direttamente con il vostro account registrato. Infatti questa applicazione vi tiene traccia di quelle che sono le tendenze del blood pressure, dei test appunto della pressione arteriosa che avete effettuato. Ecco che diciamo ci sono diverse, io ne ho fatte diverse simulazioni. È possibile vedere una media delle ultime tre volte, una media delle ultime dieci volte, si può passare direttamente all'elenco delle misurazioni effettuate. Ed ecco che vi voglio fare vedere il risultato di una prima misurazione. Una misurazione, diciamo, vi mostra la pressione massima, quella che comunemente si chiama pressione massima, pressione minima, le pulsazioni, quindi battiti al minuto e poi abbiamo una scala graduata che vi indicherà in maniera molto orientativa insomma quello che è lo stato di rischio o comunque quello che è lo stato di salute. Potete segnarvi una nota per ricordarvi quando avete fatto per esempio questa misurazione e poi potete tramite questo tasto condividerla con i social o la mail. Direi quindi che se il vostro medico è su Facebook o ha un indirizzo mail potete tranquillamente mandargli i risultati e tenerlo aggiornato sul vostro stato di salute. Veniamo quindi a quello che è un possibile test. Ecco che vi mostra subito la modalità corretta per indossare la fascia al braccio e vi permette tramite questo tasto di avviare il test. Vi ricorda sempre tutte le posizioni ideali per effettuare una misurazione, voi confermate a questo punto e il test dovrebbe partire. Adesso per ragioni di sicurezza non si gonfia, si interrompe perché appunto non è stato inserito al braccio e quindi il test viene sospeso. vi farò vedere personalmente più avanti come seguire un test e niente cos'altro dirvi. Il prodotto così mi è sembrato veramente buono, la qualità è elevata, l'ho testato e confrontando due misurazioni a distanza di pochissimo tempo con un dispositivo professionale che avevo in casa. Vi posso dire che la misurazione è abbastanza accurata. Niente, quindi buona questa integrazione di tecnologia da una parte e apparato medicale dall'altra. È un prodotto che bisogna avere in casa sicuramente quindi perché non prenderne uno all'avanguardia. rieccoci quindi con iHealth, il dispositivo da braccio che ci consente di misurare la pressione arteriosa. Vi avevo già detto che avrei fatto un video sul corretto, su una dimostrazione, un video dimostrativo su come adoperarlo. Vi dico da subito che il dispositivo è semplicissimo da utilizzare, si può adoperare tranquillamente da soli, non bisogna chiedere l'aiuto a nessuno. Queste freccette di colore diverso, rosso e blu, ci indicano la posizione corretta per indossarlo. Up va rivolta verso l'alto e down verso il basso. Quindi una volta posizionato in questo modo qui sul braccio, prendendo la linguetta dall'altra parte si può stringere in maniera, per renderla aderente al braccio e il dispositivo è indossato correttamente a questo punto. Si fa partire l'applicazione sul cellulare, eccola qui, faccio partire il test ed ecco che il test è stato avviato. Io nel frattempo vi mostro quello che sta facendo l'applicazione, ecco che potete vedere come il livello di mercurio sta salendo, ovviamente un'animazione. E dall'altra parte dello schermo invece è possibile vedere i battiti cardiaci. Non mi nascondo l'emozione durante questa recensione, quindi è probabile che la mia pressione sia un po' più elevata del normale, ma per fortuna rimango in uno stato di salute verde. Ecco che troviamo la pressione massima, la minima e i battiti, un po' sopra la media ma dovuto alla recensione che sto facendo. Il dispositivo è veramente comodo, utile da tutti i punti di vista anche perché è veramente facile da indossare e l'applicazione è semplicissima da utilizzare, a questo punto non posso fare che consigliarvelo. Un saluto da Antonio.